Luna è una bambina ragazza in quell'età in cui si è un po' bambini e un po' ragazzi, albina. Gli albini non sono solo persone con la pelle bianca che devono stare attente alla luce, ma sono anche persone che vedono molto poco. La storia dell'inizio del romanzo mi è venuto dal mare. Io spesso passeggio sul mare dove vivo e le onde portano delle cose, spesso molto belle, a volte spazzatura. A volte sono idee per i miei romanzi e mi ha portato una volta il mare questi occhiali da bambino molto spessi, quindi per un bambino che vedeva molto poco. Avevo già voglia di scrivere le storie di un albino che è un razzismo all'incontrario. L'albino viene allontanato a volte perché è troppo bianco, che è un razzismo all'incontrario rispetto al solito. E questi occhiali per un bambino che vedeva molto poco mi hanno dato la voglia di raccontare un bambino, una bambina albina, che vedeva molto poco e proprio perché vedeva poco completava le informazioni visive con la fantasia, che è una cosa che fanno già i bambini, però a quel punto devi farlo ancora di più. E la sua fantasia è enorme e quindi vede un mondo spesso diverso ma quasi migliore rispetto a quello che esiste normalmente. Non era una mia idea di partenza scrivere un romanzo di formazione. Io non ho mai idee quando comincio. L'unica mia idea è un personaggio, in questo caso l'una, e vedere cosa succede perché non lo so nemmeno io. Nessun lettore leggerebbe un mio libro sapendo cosa succederà e io che ci metto quattro anni a scriverlo non lo scrivere mai se sapessi cosa succede, sarebbe molto noioso. Mi scopro a stupirmi di quello che succede sulla pagina, pagina per pagina. Io non so mai cosa succederà. È diventato un romanzo di formazione ma non solo per Luna e Zot, che sono dei bambini, ma anche per gli adulti, per i quarantenni che sono lì, i quarantenni uomini italiani che vivono a casa con la mamma e il babbo. La mamma gli chiede cosa vogliono per pranzo e gli fanno trovare il pigiama la sera sul termosifone, così è bello caldo, a quarant'anni. E anche loro durante il romanzo cambiano, crescono anche loro. Io credo che la gioventù che è dentro il romanzo è un romanzo sulla giovinezza, ma è una cosa che non ha età. La carta di identità, che è quella che dice quanti anni abbiamo, io penso che serva solo quando la polizia ce la chiede e noi gliela parliamo, perché ho conosciuto ottantenni bambini e sedicenni anziani. La giovinezza è una cosa che non c'entra con l'età e mi piaceva che in questo romanzo anche le persone più chiuse, che volevano rimanere da sole, come il nonno Ferro, che addirittura ha ottant'anni e che ormai ha pensato che nella vita non c'è più niente per lui e si chiude a tutti, la vita arriva e ti fa fare delle cose che ti fanno scoprire che sei ancora giovane. Possiamo nascere vecchi e diventare giovani crescendo e in questo romanzo succede così e mi auguro che succeda a tante persone. Io cerco di raccontare ogni personaggio dal suo punto di vista, però in ogni romanzo c'è un personaggio più che prende un po' tutto, in questo caso è Luna e all'inizio era la cosa che mi aspettavo di meno, perché entrare nella testa di una bambina, albina, io la trovavo una cosa difficilissima e allora all'inizio ho detto io provo a scrivere Luna, provo a scrivere la sua voce, se mi riesce, se viene, sono contento, altrimenti il romanzo non lo scrivo. Però più continuavo a scrivere di lei e più trovavo delle cose anche di me e forse di tutti noi, che sono quelle cose con cui nasci e mentre cresci cerchi di nasconderle perché non vanno bene alla società, quindi decidere i tempi, i modi in cui fare le cose invece che lasciarli decidere agli altri. Lavoro dal lunedì al venerdì, il sabato vado a giro, la domenica lavo la macchina, lavo l'automobile, lo trovo orribile. E invece quella cosa che è dentro Luna è ancora dentro di noi, che spesso non lo facciamo uscire e lasciandola uscire con la voce di Luna mi si è aperto quel mondo che poi è il mio mondo, che è il mondo che ha saputo mettere al cinema Federico Fellini. Federico Fellini è nato a Rimini, che è dall'altra parte del mare ma sulla linea con Forte dei Marmi, che è il posto dove sono nato io, dove sono nati i miei genitori, dove sono nati i miei bisnonni, hanno fondato. E' una linea in Italia di un certo modo di vedere le cose. Tutto ti viene spiegato con le favole. Quando ero piccolo, quando cresci, tutto è raccontato con delle favole meravigliose, con delle storie meravigliose. E quando guardo i film di Fellini ritrovo le storie che mi raccontava mia nonna. E raccontando Luna mi sorprendevo a immaginare dei film di Fellini però messi sulla carta. E' quello che ho cercato di fare, o meglio non ho cercato, è successo senza volerlo. Le mie influenze sono due. Artisticamente Fellini, io lo sento come una specie di padre, per me. L'altra grandissima influenza sono stati i più grandi scrittori che io ho mai conosciuto e che sono mio nonno e gli amici di mio nonno, i vecchi del mio paese. Il mio paese è un paese sul mare, senza tradizione, non è come il resto della Toscana, non è come Parigi, con una grande storia. E' un posto che non esisteva fino al XX secolo, era palude. I miei bisnonni sono andati lì a vivere fra il mare e le montagne alte 2000 metri. E' un posto stranissimo. In 20 minuti tu vedi le aquile e vedi delfini, in 20 minuti. E in questo posto i miei bisnonni hanno fondato un paese. Il primo lavoro che facevano era costruire le bombe per l'esercito italiano, gli esplosivi. Scoppiava tutto, morivano, assumevano un nuovo personale e questa era la storia del paese. E queste persone avevano delle storie meravigliose e io ero l'unico bambino della famiglia, l'unico nipote e tutte queste persone mi raccontavano le loro storie. E erano scrittori meravigliosi che non sapevano scrivere. E quindi io ho tantissime storie da libri mai scritti, perché sono persone che hanno scritto i libri vivendo. La loro vita sono romanzi e io posso raccontarli perché so scrivere, perché ho imparato a scrivere. E quindi da una parte Fellini, quell'immaginario, quel modo italiano di vedere la vita con qualche fiocco addosso. Anche le cose brutte le hai sempre con un fiocco, qualcosa di dorato che te le rende magiche. E insieme con la grande saggezza, la grande anche giovinezza eterna di queste persone che hanno fatto queste vite strane e me le raccontavano contenti del fatto che loro stavano morendo, ma le loro storie non sarebbero morti con loro.